non l'hai presi non l'hai presi voglio faticare meglio provi con 7? sono 6 mattoni da 42 cm sono tanti ora ne aggiungiamo uno 42 cm 42 cm di mattoni ecco il nostro campione ricordiamo ieri sera ce l'ho fatto anch'io ma adesso ho appena bucato ma veramente è una cosa strepitosa eccolo che arrivo è stato un muretto e ci sarei calito è bene è stato un muretto e ci sarei calito sempre con cura e attenzione il nostro biker però ricordiamo che questo è 42 cm e il jersey è alto 1 cm ha messo sotto i mattoni poveracci ricordiamo che un jersey è alto 3 cm un jersey sinceramente non lo sappiamo con precisione ma deve essere sui 60 cm e questi sono 42 cm e questi sono 42 cm ragazzi se lo vediamo da qua è impressionante ecco il campione che prova prova ma ne tocca uno e per l'ultimo c'è la penalità c'è la penalità come penalità dovrai saltarti i 7 mattoni ecco lo che esce dal box è andato a cambiare le gomme mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia nooo nooo hai toccato hai sfiorato l'ultimo ah erano in video non è un video da pochi secondi ragazzi voi ci scherzate ma sono 42 cm saltati senza nessuna rampa infatti vediamo che questa qua è solo una lastrina di regno per non far scivolare sulla chiaia guardate ragazzi quanto è alto il sangue è lì il sangue è bellissimo sangue quasi fino al ginocchio il crystal flash è acceso entra nei box perchè pit stop si esce dalla gru eccolo 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 devi concentrarti la sfiorati se lo salto senza toccarlo mi metto 42 cm sarebbero 48 cm con 8 mattoni non passare i box non passa i box deprimente deprimente concentrati concentrati devo pisciare decide che deve andare a pisciare cosa che sto per fare anch'io scusate un po' di pausa ci vedremo subito dopo la pubblicità no eccoci di nuovo bentornati a nuvolari tv vi laviamo? propone qualcosa laviamo le bici? vuole lavare le bici in effetti sono un po' sporche ma io no decido di no perchè la mia camera da revuca e allora? dai man non è una scelta molto collettiva devi saltarti sti cazzo di 7 mattoni se li salto lavare le bici? si no poi te ne salti 8 bici hai voluto tanto venire qua dai guarda mi sono deciso da qui ma di lavare le bici non volare tv guardatelo 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 ma che cazzo fa? cambia idea cambia idea prendiamo quel coglione del cazzo si ferma i box è strano che non riesca a saltarli perchè ieri sera quando provavamo avevamo anche un peg quindi pesava anche però adesso senza peg lui non ci riesce fa quel cazzo che vuole sui muri bianchi fa double fakey triplo fakey basta fakey dai esce dai box con fretta e furia guardatelo 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 nooo li prende tutti siiii è troppo un genio tanto mi tocca rimettere a posto a me non ci riesco salite i tuoni siiii se ha un muretto alto 7 cosi va bene ma saltarli senza toccarli no siiii ci riprova decide di riprovarci ha detto mi arrendo ha appena detto che non si arrende ci proverà fino alla morte Mi arrendo, non ci provo più Madonna, ha detto che piuttosto che arrendersi Ci proverà tante di quelle volte Muoviti Ma non devi arrenderti Radio 105 con Wendling Console Eccolo, eccolo, eccolo Ci prova No Decide di tralciare i mattoni Perché gli stanno antipatici No, non li mettere neanche Si, invece Paolo Noise Che sta ancora muovendo il collo Dove c'è solo l'hai mandato quel mattone, Ale Ragazzi, non è una cosa da pochi secondi Ci vogliono ore e ore per fare i sette mattoni Guardate Io neanche un'ora ci impiego Questo video su Nuvolari è stato commentato da 10 milioni di persone Ricordiamo, Nuvolari era un gran campione di VNX Il video precedente con Tailbit Si Al Groove Skate Park, ricordiamo Groove Skate Park locale Stasse rilevante Non pubblico Perché quel bastardo di Giorgio Ci fa pagare 6.50 L'entrata di giorno E di sera 8 euro, ragazzi Mentre Ascoltiamo le sue No, scherzo Ok Avanti Ti vogliamo coraggioso, Amedeo Voglio che tu Farai questi sette mattoni Perché? Voglio che tu faccia, semmai Di grande, di merda Voglio che tu faccia sette mattoni Perché? Per la patria Per la patria Si, lo Da così Ci ritroviamo Subito dopo la pubblicità No, non c'è pubblicità Salta di sti cazzo di mattoni Prova al contrario Eh? Poi fino là No, no Così no Anche perché non ce la faresti Dai, tanto Senza non vai Ti ritrindo Vieni un attimo Facciala accattivante Dai, io stavo Vieni un attimo Nuvolari TV C'è la pubblicità Tra poco Ninja Warriors Su JXT Benvenuti di nuovo A Nuvolari TV Con BMX Sport Attack Dove il nostro campione Sta ancora tentando Di saltarsi Sette fatiche Ragazzi Io Lo dico Non ci provate a casa Queste acrobattie Sono state eseguite Da professionisti Noi ci alleniamo Da otto anni E abbiamo Tredici anni Mi dovete guardare in faccia Eccomi Nike Facciamo parte Dello sponsor Nike 6.0 Siamo dei Red Buller Professionisti E ci piace Giocare con Nicoli Con le macchinine Eccolo Eccolo Li prende con la ruota Ravanti Complimenti Amedeo Fai schifo Vediamolo lì La faccia disperata Ecco I mattoni disperati Che li chiedono Aiuto Ecco il motorino Il gommone Ecco Su non volare il tv Tra un po' ci sarà Gommon Attack L'Italia Voda Dai la diamo? Con quello